Buonasera, voglio parlare di un galleggiante classico, quella pescata. Il classico fai da te. Il tappo di subito nella bottiglia di champagne o spuante, scartavetrato e colorato. E' il migliore di più. Io sono in questo momento a Costa Calma. E' il migliore di più. E' il migliore di più. Tutte le spiagge che sto sponso. E' il migliore. Se ne vedo un sacco di pesce. Guardate. Incredibile, una pesca semplice così. Quanti pesci profforzano. Ok? E' il migliore di più. E' il migliore di più. Il migliore di più. E' il migliore di più.